A Zeman un sincero è sentito in bocca al lupo, la salute è prima di ogni cosa, tutti gli altri discorsi sono prematuri, inutile avventurarsi su quello che sarà in panchina, c'è Giovanni Bucaro, di certo non un neofita. Alla domanda assolutamente comprensibile sul prossimo futuro, il tecnico palermitano risponde confermando spessore umano e grande rispetto. Non ho pensato a questa cosa, mi interessa di più in questo momento la salute del mister, quello che succederà da lunedì in poi lo valuterò al momento, ripeto la mia testa in questo momento è a pensare a come starà il mister in questa settimana che verrà e alla partita soprattutto di Pesaro. Sarà dunque la quarta gara senza Zeman in panchina, Pesaro con l'obiettivo di ritrovarsi contro la Spal al netto delle solite defiance, naturalmente da eliminare, il Pescara non ha affatto demeritato. Al Benelli due defezioni, Aloy per la squalifica e Merola non al meglio e altrettanti ritorni Brasco e Di Pasquale. Nel reparto arretrato c'è l'imbarazzo della scelta. A centrocampo sembra scontato il rilancio di Tugiov e Franchini. Meazzi potrebbe giocare da finto esterno nel tridente completato da Cuppone e Cangiano. Ecco dunque il probabile undici plizzari tre pali in difesa Floriani, Pellacani, Di Pasquale e Milani favorito su Moruzzi. In mediana ha squizzato play, interni Franchini e Tugiov davanti come ipotizzato Meazzi e Cangiano a supporto di Cuppone. La Vis Pesaro occupa la quattordicesima posizione in condominio con l'Ancona. 29 punti più uno sui play-out. L'undici di Simone Banchieri vince poco, cinque successi ma perde altrettanto. Solo una sconfitta in casa col Gubbio nelle ultime dodici, tre nelle ultime ventuno. Al Benelli appena due affermazioni contro l'Entella l'8 settembre e la Re Canatese il 22 ottobre, di fatto quattro mesi fa. In tutti e tre i gironi la Vis Pesaro è la squadra che ha totalizzato più pareggi, ben 14. Al rientro l'esperto difensore Dennis Tonucci dalle rispettive squalifiche di Paola e Iervolino. Out lo statunitense De Vries. Sistema di gioco 4-3-2-1. Tre pali Filippo Neri in difesa Mattioli, Rossoni o Tonucci, Zagnoni e Gianmarco Neri. L'ex Valdifiori play, interni Iervolino e Rossetti, tra le linee di Paola e Pucciarelli, altro ex, al ridosso dell'islandese Carlson. Finora 8 centri in campionato. Il tecnico Simone Banchieri. Sicuramente pescare una squadra forte, ben allenata, che ha idee di gioco chiarissime e noi dobbiamo avere questo rispetto come abbiamo con tutti. Però noi abbiamo la nostra identità e sappiamo che possiamo vincere contro tutte le squadre, quindi giocheremo con quell'intento come facciamo sempre. Poi dopo sarà il campo a dire cosa succede dentro le partite. Prevederlo prima per me è impossibile, perché non mi ci metto neanche a pensarci. Però pensare a un piano gara molto serio, molto corretto, molto di sacrificio, molto di sofferenza e molto anche di qualità, perché poi abbiamo le qualità per giocare bene al calcio. È una squadra in salute, si è anche, tra virgolette, un po' rinforzata nel mercato, anche se hanno dato via Sille, hanno preso Nicastro, che è comunque un giocatore che ha fatto anche le categorie superiori e che è un ottimo attaccante. Hanno anche qualche altro che ha calcato già i campi della Serie A, come può essere Valdifiori, Pucciarelli. È una squadra che ultimamente ha trovato una sua identità, sta dando continuità ai risultati, quindi come ho detto in precedenza tutte le partite sono difficili, in C c'è l'equilibrio. Dobbiamo mettere più del 100% per poter portare a casa la vittoria. A Pesaro soltanto tre precedenti, pareggio per 1-1 il 16 dicembre 2001. Il Pescara di Ivo Iaconi la sblocca con Peppe Antonaccio, rimonta vis quasi all'ultimo respiro, minuto 89, golla di Mazzoli. Sempre in C nelle immagini, 11 maggio 2003, ultima giornata della stagione regolare. Un mare di tifosi biancazzurri, testa a testa per la promozione diretta in B con l'Avellino di Vullo, che sul campo del Crotone, allenato da Uteri, mette subito al sicuro il risultato, con una rete di marra. I biancazzurri si impongono agevolmente, marcatori Ottavio Palladini, Pasquale Apa e Andrea Cecchini, per la viscazzola. Serie B tuttavia rimandata solo di qualche settimana nei play-off contro San Benedettese e Martina Franca, l'apoteosi del Delfino, targato Ivo Iaconi. L'ultima volta al Benelli, due anni fa, 23 febbraio 2022, vittoria per 2-0 in calce, la firma di Jacopo Cernigoi, prima gioia in maglia biancazzurra, e di Davide Zappella.